Musica Bentornato Goodler, bentornata quest'oggi niente lezione in quanto interrompiamo questo flusso del percorso con questo articolo notizia che ho voluto comunque trasformare in video questo perchè la mia volontà di aprire ad interazioni con te e con tutti gli altri lettori mi ha portato ad un'idea alla decisione di creare una nuova pagina del sito dedicata ai problemi e alle relative soluzioni che ogni utente incontra e magari risolve nel suo utilizzo del computer a questa nuova pagina che ho chiamato appunto problemi e soluzioni anche tu in quanto utente del computer potrai fornire il tuo contributo che anche piccolo che possa essere tornerà di certo utile alle persone che incontrano quello specifico problema ma non sanno come risolverlo il modo di contribuire è semplicissimo ti collegherai naturalmente al sito e se hai incontrato dei problemi o di natura hardware o software nel corso delle tue peripersie ti dovrai regare alla pagina problemi e soluzioni compilando dei campi la pagina si presenta appunto con dei campi da riempire tipo un sondaggio alcuni dei quali saranno a libera scrittura oppure tramite un menu a discesa i campi indicati con asterisco ricordati sono obbligatori seleziona con un segno di spunta la categoria di appartenenza del problema che vuoi descrivere che potrà essere come detto di tipo hardware o di tipo software quindi naturalmente vai a cliccare o in questa sezione o in questa e dopo clicca su continua nella nuova pagina scegli da questo menu in base alla selezione che avrai eseguito nella precedente o hardware e software come detto scegli da questo menu la sezione a cui appartiene il problema dopo di che clicca su continua qui puoi meglio vedere una porzione di eventuali sezioni che con il tempo poi andranno a cambiare ad implementarsi naturalmente nel campo successivo potrai descrivere in maniera breve il tipo di problema che hai risolto e la parte più importante nella sezione inferiore descrivi in maniera molto dettagliata la soluzione al problema qui nel campo azione risolutiva intrapresa rendi quanto più descrittiva possibile la soluzione per far meglio comprendere anche ai neofiti in questa sezione potrai anche inserire se vuoi eventuali risorse utili da condividere come link ad articoli siti forum immagini documenti insomma a qualsiasi cosa che potrebbe essere utile al fine di integrare meglio la sequenza di soluzione da te descritta infine troverai altri due campi se lo hai è consigliabile scrivere anche il sito che possiedi ma soprattutto è importante trascrivere il nome o eventualmente il soprannome per dar merito alla tua condivisione dopodiché dovrai cliccare sul pulsante invia per far acquisire questi dati dopo che hai cliccato sul pulsante invia se tutto è andato per il verso giusto una notifica come questa ti avviserà che l'acquisizione dei tuoi dati è stata portata a termine fatto ciò potrai visionare il tuo contributo insieme a quello fornito dagli altri da una pagina dedicata in formato html e potrai visionarla cliccando direttamente sul pulsante visualizzare i problemi all'interno della pagina stessa pagina che ripeto è indicata nel sito con problemi e soluzioni avrai qui evidenziato la tipologia di intervento e di sezione il tipo di problema con la descrizione risolutiva eventuali risorse e il sito eventuale di colui che ha trascritto questa condivisione quella pagina potrà essere salvata oppure stampata per una successiva consultazione il mio intervento sarà attuato soltanto per rimuovere eventuali soluzioni identiche per uno stesso problema riportati da diversi utenti e compensare eventuali errori di inserimento del problema soluzione nella categoria o nella sezione oppure correggere eventuali errori di digitazione come sempre apprezzerò eventuali feedback che possano portare ad un miglioramento di questo servizio che tutti insieme contribuiremo a creare per tutti noi utenti me compreso creeremo così un prezioso archivio di libera consultazione per la comunità aiutando coloro che non sanno come risolvere determinati problemi sia che possano essere semplici o complessi nella prossima lezione torneremo ad un aspetto più didattico continuando l'ipermaratona sul pannello di controllo ora un forte saluto ciao a presto da gallo e dalla prossima a presto a presto